Buongiorno a tutti, io sono Simone e vi do il benvenuto su questo nostro tutorial su Bilpi, il bilancio termico Zodiac. Come vedete noi siamo sulla nostra home page al sito www.zodiac-poolcare.it e quest'oggi vedremo come è possibile realizzare appunto un bilancio termico attraverso i nostri strumenti. Da questa pagina facendo accesso professionale a bilancio termico inseriamo username e password eccoci qua nella finestra che ci dà la possibilità di accedere al bilancio termico. A questo punto noi possiamo decidere se effettuare un bilancio termico per piscina esterna oppure interna, scegliamo bilancio per piscina esterna, in questo caso, con valida e ci troviamo in questa nuova finestra in cui andremo proprio a inserire tutti i dati della nostra piscina per poi avere un risultato per quanto riguarda quale prodotto utilizzare in quale situazione. Quindi il Bilpi è uno strumento gratuito che noi forniamo ai nostri partner in grado di semplificare e certificare il dimensionamento di apparecchi per il riscaldamento di piscine. Ora vedremo come andiamo a effettuare fisicamente il Bilpi. Qua inseriamo il nostro cliente. Questa è una versione Pro. Io ho la possibilità di scegliere tutti i nostri clienti. Voi invece avrete una maschera in cui andrete proprio a inserire i dati del vostro cliente. Quindi mettiamo noi stessi. Eccoci qua. I nostri dati. Da qui in poi andremo a inserire i dati della piscina. Supponiamo una piscina di lunghezza 10, larghezza 5, profondità media 1.5 e vediamo che automaticamente il sistema calcola superficie e volume della piscina. Sono diciamo alcuni dei valori fondamentali per poter calcolare il bilancio termico. Dopodiché scegliamo che tipo di piscina, le caratteristiche della nostra piscina e del periodo di utilizzo. Piscina a bordo sfioro con cascata o a skimmer o piscina a bordo sfioro. Mettiamo una piscina skimmer non fuori terra con copertura. Copertura telescopica a basso non riscaldata in questo caso non la mettiamo. frequentazione privata mi va bene adesso. Mettiamo un periodo da inizio aprile fine ottobre. il clima padano-appenninico, alpino, centrale litoraneo, sudo isole. Mettiamo centrale litoraneo. l'altitudine è un altro dei valori fondamentali. Mettiamo 30 metri sul livello del mare, esposizione ai venti media. Solitamente quando decidiamo di utilizzare la copertura è sempre meglio utilizzare media come impostazione su questo campo. Temperatura desiderata dell'acqua. Ora stiamo decidendo di riscaldare una piscina quindi potete immaginare quanto questo valore possa influire sul risultato finale. Mettiamo 30 gradi. Temperatura iniziale dell'acqua ci fornirà un dato in ore che ci permette di sapere quanto tempo ci impiegherà il prodotto apportare la temperatura dell'acqua da 15 a 30 gradi. Alimentazione elettrica sarà monofase o trifase. Mettiamo indifferente e vediamo che opportunità ci dà. Le ore di filtraggio della piscina. Sulle ore di filtraggio si può lavorare per diminuire la necessità di fabbisogno calorico solitamente le ore di filtraggio si impostano alla metà della temperatura desiderata quindi 30 gradi 15 ore di filtrazione. L'ubicazione della pompa di calore in questo caso è all'esterno. Considerate che tutti i nostri modelli sono obbligatoriamente da installare all'esterno ad eccezione del modello Power First Premium per cui è previsto un kit di installazioni locale tecnico e quindi mettiamo all'esterno in modo da avere una gamma più ampia di prodotti. Tariffa base Italia ci permette di creare anche una tariffa personalizzata se noi dovessimo avere i valori, i costi dell'energia di qualsiasi tipo dell'installazione su cui andremo poi successivamente a portare i prodotti noi possiamo modificarle in una sezione che poi andremo a vedere nello specifico. Questa sezione qua invece pulizia della piscina ci dà la possibilità di automatizzare anche la scelta di quale pulitore utilizzare e quella sottostante ci dà la possibilità di automatizzare la scelta del prodotto che tratterà l'acqua della nostra piscina quindi o un regolatore di pH o uno sterilizzatore a sale che può essere dotato in questo caso se seleziono questa voce sì solo sterilizzatore a sale con apparecchio evolutivo di regolazione del pH oppure se scelgo questa voce lo sterilizzatore a sale avrà anche il modulo 3 il modulo pro scusate oppure il modulo pH a seconda delle nostre esigenze facciamo clic su convalida e il sistema se abbiamo inserito tutti i dati corretti ci calcola bilancio termico che è questo che vedete adesso sono tutti i nostri dati qui ci saranno i dati del vostro cliente con i contatti successivamente i dati che abbiamo inserito qua sotto e la potenza calcolata necessaria potenza in kilowatt calorici non sono kilowatt elettrici sotto i prodotti che soddisfano questa esigenza quindi in questo caso una z power 11 mono o una premium 11 mono o trifase le differenze tra i prodotti le potete trovare sul nostro catalogo e sicuramente in futuro anche tra altri nostri video esplicativi e fondamentalmente in bilpi poi troviamo anche che tipo di riscaldatore elettrico utilizzare quindi in questo caso un redline 9 e quindi in questo caso un redline 9